Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. L'altro ieri è venuto meno Enrico Scalabrin che arrivò a Campobasso nel 1966 per giocare con la squadra Rosso Blu, difensore centrale, all'epoca in realtà si chiamava Libero. Enrico fu uno dei perni della difesa del Campobasso fino al 1972, a lungo anche capitano della squadra. Decise di vivere nella nostra città e per anni lavorò presso la cassa di risparmio molisana mentre si diede al tennis e fu un assiduo frequentatore del circolo della villa comunale De Capua. Scalabrin è stato un ottimo atleta ed un amico sincero. Negli ultimi anni si era trasferito in Veneto, sua regione d'origine alla figlia e alla sua famiglia, la solidarietà più affettosa da parte mia personalissima. Io ho giocato anch'io insieme ad Enrico alla fine degli anni Sessanta, quindi la solidarietà più affettosa da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Per il calcio di Serie D, ieri la Lega Nazionale di Lettanti ha confermato la disputa dei play-off. Nella griglia ad oggi c'è anche il Matese. La Lega di Lettanti si è espressa attraverso un comunicato in cui conferma che si procederà alla disputa dei play-off. Una notizia abbastanza sorprendente ed in controtendenza rispetto alla recente abolizione dei play-out. Stupisce che vengano confermati i play-off che, tra l'altro, si esauriranno nel giro di una settimana proprio perché il campionato terminerà a giugno inoltrato e la stessa lotteria play-off in realtà poco deve aggiungere a quello che già scrive la classifica. Nel girone F ci sarà una semifinale il 23 giugno mercoledì, quattro giorni più tardi una finale play-off che sarà l'ultimo atto di una stagione lunga, complessa, per certi versi anche molto stressante. Il Campobasso vuole archiviare la pratica campionato allo stadio Scopigno di Rieti, sicuramente un impianto all'altezza della situazione che spesso ha ospitato anche gare internazionali dell'Under 21. Cudini si è espresso sul pareggio anche inaspettato contro i marchigiani del Santo Elpidio facendo sì il mea culpa ma ribadendo con forza il concetto principe che deve passare in questi giorni, il Campobasso è padrone assoluto del suo futuro. Qualsiasi squadra vorrebbe avere un vantaggio di sei punti sulla diretta inseguitrice a 270 minuti dalla fine. Ai Rosso Blu serve il ritocco fondamentale, a questo punto anche decisivo per compiere il salto di categoria e abbandonare la quarta serie, un mondo fin troppo frequentato negli ultimi anni. Quattro punti in tre partite sono l'obiettivo minimo per approdare fra i pro in presenza di tre vittorie del notaresco il cui risultato non deve distrarre troppo proprio perché, lo ribadiamo ancora, i Rosso Blu hanno in mano le redini del torneo. Rieti è fra le trasferte più distanti dal capoluogo mai toccata dalla squadra nei recenti anni di quarta serie. Da venerdì via alla prevendita Campobasso unicamente online e con una definizione dei biglietti da assegnare. alla tifoseria ospite ancora da stabilire. Pare che dopo un consulto fra le due società il Rieti abbia dato la propria disponibilità ad un numero più consistente di tagliandi. Si parte dalla base di mille spettatori, capienza consentita domenica allo Scopigno. Il tifo del Campobasso si sta mobilitando proprio per affrontare la trasferta ai piedi del Monte Terminillo. In tanti vorranno raggiungere la parte settentrionale del Lazio, ma in tanti, sia dal Molise che dalla stessa Rieti, pure dovranno fare conti con le limitazioni di capienza. Cudini riavrà due pezzi importanti del centrocampo come Bontà e Tengorang. Esposito avrà una settimana di recupero in più. In avanti tante le alternative in piedi, considerato il momento straordinario di Rossetti, in gol con una discreta costanza. Cinque le reti stagionali per lui. Dopo la conferma dei play-off, il Matese straordinario il suo cammino aspetta di conoscere l'avversario, visto che la griglia deve definire matematicamente alcune posizioni. Il cammino vittorioso dei Casertani potrebbe non conoscere soste neanche domenica. Alfadini di Giulianova, prossima tappa. Prosperi del Vasto Girardi garantisce il massimo impegno dei suoi fino al novantesimo del 20 giugno, ma non potrebbe essere diversamente per una squadra che si è salvata nei fatti con largo anticipo. Circola la voce di un interessamento del presidente del Vasto Girardi, Andrea Dilucente, per l'acquisizione dell'Ancona Società, anche con un buon blasone nel calcio italiano. Dilucente farebbe parte di un team di imprenditori interessati alla società marchigiana. Un eventuale ingresso di Dilucente nell'Ancona non distoglierebbe tuttavia l'imprenditore dal Vasto Girardi considerato il suo primo amore calcistico. Domenica, Lagnone proverà a fermare l'Aprilia, altra squadra molto temibile del Girone F. Dobbiamo aggiungere che proprio ieri la FIGC ha pubblicato il protocollo con le indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra di base ed agonistiche, cioè valevoli per tornei e campionati, dilettantistiche e giovanili non già regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preeminente interesse nazionale. L'Olimpia agnonese si prepara ad ospitare l'Aprilia per il secondo match consecutivo al Civitelle nel post-gara perso contro il FIUGI. Abbiamo avvicinato Marinelli. Mister Mauro Marinelli, è arrivata questa sconfitta con il FIUGI che interrompe un po' una serie di risultati, un episodio nel primo tempo per il quale avete protestato, poi nella ripresa non siete riusciti a riportarla sul binario giusto. Sì, effettivamente, dopo due minuti prima che loro facevano il gol del 2-0, noi abbiamo avuto una clamorosa occasione sul cross di Di Lollo. La palla, diciamo così, è stata attorno alla linea di porta, nessuno è stato in grado perché non c'erano le possibilità di metterla dentro. Chiaramente questa è una partita che ci lascia un po' di amaro in bocca perché sentivo ora il mister Incocciati del FIUGI che diceva che loro per il terzo anno consecutivo faranno la Serie D, un grosso risultato, l'Agnone l'ha fatto per 14 anni di seguito e Agnone non è FIUGI. Comunque, tralasciando questo, ora dobbiamo pensare al futuro e dobbiamo dire al presente, invece dobbiamo dire grazie ancora una volta alla famiglia con la Izzo, che è stata il principale sponsor di questa squadra, anche non rivestendo cariche ufficiali, però ci hanno dato una grandissima mano e questo gli deve essere dato merito. Dopo un gruppo di dirigenti che ha lavorato, nonostante la situazione in classifica fosse davvero deficitaria. Sì, non è stato sicuramente facile lavorare con queste condizioni, ma come ha già ben detto lei, bisogna pensare subito al futuro. Sì, bisogna pensare al futuro, non dimenticando che quest'anno siamo riusciti a portare a termine un campionato, dopo aver avuto una prima fase con una dirigenza che all'improvviso è scomparsa. Noi siamo subentrati, abbiamo tentato anche un miracolo calcistico, tant'è ribadisco che nell'unica partita in cui abbiamo potuto schierare la formazione al completo a Vasto Girardi, che all'epoca era una squadra che lottava per i play-off, noi abbiamo subito un rigore ingiusto al novantunesimo, se no avevamo vinto a Vasto Girardi. Questa è la realtà dei fatti. Dopo quel pareggio sono subentrati diversi infortuni, è subentrato il Covid, è la squadra che ha avuto più problematiche con il Covid nella prima fase e nella seconda fase, ma nonostante questo siamo andati avanti con il sacrificio, con la dedizione che contraddistingue la città di Agnone e il calcio agnonese. Nuoto gli atleti dell'M2 hanno conquistato il titolo di campione regionale ragazzi del campionato italiano a squadra. Il titolo è stato conquistato a Roma domenica scorsa nella vasca lunga del polo natatorio federale di Pietralata. Un successo importante e prestigioso grazie alle ottime prestazioni di Alessandro Trevisi, Antony Latessa, Alessio D'Agostino, Jacopo Varriale, Federico Di Rito e Tommaso Biello. Per la pallavolo maschile passaggio in Serie B del Cus Molise. Ai nostri microfoni l'allenatore. Mister Mariano Maniscalco, Don't worry, be happy. La Serie B staccata e il biglietto qui a Termoli, gara e prestazione impeccabile. È arrivata questa splendida vittoria, vi spalanca le porte della Serie B2. È stata una bella cavalcata in un anno difficile. Sì, sì, un anno difficile. Noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere e siamo arrivati a questo momento nella forma che volevamo. Insomma, l'ultimo mese penso che giravamo veramente al massimo delle nostre possibilità e l'abbiamo dimostrato fino a oggi. Penso un cammino impeccabile. Abbiamo raggiunto la Serie B, che non è più B2 e B1, ma è proprio B unica. Adesso è B unica. Grande, missa! Va bene, tanto fa caldo. Con la doccia è ancora meglio. E quindi, insomma, l'abbiamo raggiunta con un solo set perso, quindi devo dire che questi ragazzi sono stati veramente eccezionali. Io li sto allenando costantemente dal mese di ottobre. Non hanno mai mollato un allenamento, hanno affrontato il tutto nella maniera più seria possibile. Sono veramente contento per loro perché hanno dato veramente tutto dal primo giorno. Ed è veramente meritato. Ora è chiaro che questa sera ce la godiamo, ma da domani dobbiamo pensare perché è chiaro che questa Serie B deve essere l'inizio di un qualcosa di importante per questa nuova società, per Campobasso e per tutto il territorio. Struttura forte, squadra fortissima, staff dirigenziale enorme, sponsor con voi. È stato un anno bellissimo. Tutto, in ogni suo ruolo ha funzionato alla perfezione. Questo fa sperare per il futuro. Devo dire che ognuno ha fatto il suo compito in maniera perfetta, egregia. Questa ha dato una spinta molto, molto, molto importante. E così dobbiamo continuare a lavorare. Mister rimarrà e continuerà a lavorare con questa squadra? Assolutamente. Siamo solo all'inizio. Volley anche la FIPAV Molise, da domenica prossima pronta a debuttare con la prima edizione del Volley S3 al Parco, in programma nelle ville, nei parchi e nei luoghi all'aperto di tutta Italia. Lo scopo è quello di incentivare l'attività motoria dei giovanissimi attraverso il gioco nei luoghi all'aperto. La manifestazione verrà ospitata a Campobasso e Termoli. Calcio d'eccellenza, l'Isernia nella semifinale play-off di domenica scorsa ha battuto il Venafro al Lancellotta domenica prossima alla gara di ritorno per conquistare la finale. Giorgio Palmeggiano, direttore sportivo di Città Isernia. Una prestazione ben riuscita, quella contro il Venafro nella semifinale di andata. Un'Isernia che non riusciva a trovare il gol, però che al secondo tempo finalmente si è sbloccata. Sì, la partita è stata maschia, dura. Loro sono partiti con la solita aggressività, loro giocano tutti dietro palla con grande agonismo. Sono andati in vantaggio dopo 7-8 minuti, quindi la partita si poteva mettere male. Sono stati bravi i nostri ragazzi perché sono rimasti con la testa in partita e poi nel secondo tempo l'abbiamo recuperata e alla fine siamo riusciti a vincere e a consolidare il risultato proprio all'ultimo minuto. Non è finita qui, domenica prossima c'è il ritorno e poi si vedrà per la finale. Sì, domenica c'è il ritorno a Isernia. La partita assolutamente non è finita, dura 180 minuti. A questo punto siamo in vantaggio, nel senso che abbiamo questi due gol di vantaggio, cercheremo di farli fruttare al meglio e possibilmente di giocare e vincere anche il ritorno. Ci aspettiamo il nostro pubblico allo stadio perché domenica sarà a porte aperte a Isernia e qui, contrariamente che qui a Venafro, che è stato a porte chiuse. Speriamo di guadagnarci l'accesso alla finale del 19 davanti alla nostra gente. Il Termoli nella gara di ritorno contro l'Aurora Alto Casertano dovrà ribaltare un passivo di 2 a 0. Giovanni Chene, secondo me è una grandissima partita nel primo tempo. Nel secondo tempo forse vi eravate adagiati un po' sullo 0 a 0 oppure siete un po' aspettavate l'avversario. Però nel primo tempo che hai giocato hai cercato anche il gol, sei stato l'unico a cercare il gol. Sei stato molto sfortunato. Abbiamo preparato bene la partita. In settimana ci siamo preparati bene, siamo stati appunto sfortunati a non buttare dentro la palla l'occasione mia. Al secondo tempo sì, all'inizio ci siamo calati un po' perché eravamo un po' più stanchi e loro comunque giocavano bene. Ci ha smontato un po' il gol, a mio parere, in fuori gioco. Di parecchio. Da lì ci siamo disuniti. Adesso c'è il ritorno. Dovete scendere in campo concentrati, vogliosi di potercela fare. Sì, no, sicuramente andremo là con più fame di oggi e cercheremo di ribaltare la partita. Poi come va, va. Però l'importante è sempre lasciarci tutto l'impegno possibile. Ken è meglio a destra, esterno oppure centrale? Ma dove mi metto io gioco. Mi trovo bene ovunque. All'avanti mi spazio, cioè non ho punti di riferimento. Mi piace muovere, mi piace svariare. Sì, davanti mi trovo bene perché mi piace fare la guerra, mi piace combattere. Quindi mi trovo bene all'avanti comunque. Senti, bisogna stare uniti e compatti in questa settimana per puntare tutto a domenica. L'ultima chance. Questa settimana ci prepareremo ancora meglio di questa. e come ho già detto cerchiamo di andare a ribaltare la partita anche se non sarà facile perché loro comunque sono una buona squadra, sono organizzati ma abbiamo capito quali sono i loro punti deboli. Oggi, ripeto, ci è andata male perché non abbiamo concretizzato molte azioni da gol che abbiamo creato e vedremo settimana prossima. Non abbiamo nulla da perdere, quindi ci ammetteremo tutto. Il Boiano si può ritenere più che soddisfatto per il campionato disputato. I nostri microfoni, il capitano. Antonio Morello, attaccante il Boiano, dunque. Voi comunque il vostro dovere l'avete fatto ampiamente, avete disputato sei ottime partite. Chiudete a dieci punti, vi potete ritenere soddisfatto? Soddisfatto no, perché quando viene eliminato non vuoi ritenerti soddisfatto. Bisogna sempre fare di più. Però sì, per le prestazioni sono soddisfatto perché ci siamo giocati a viso aperto con tutti. Un altro grande rammario è la partita di sabato qui con l'Auro Alto Casertano, una squadra che sappiamo tutti che squadra è. E noi l'abbiamo messo in difficoltà e anche lì meritiamo di vincere. Ce l'hanno messo anche loro a fine partita. Abbiamo preso un gol su un fallo di mano, clamoroso. Purtroppo il calcio quando non ti girano gli episodi è questo, vai fuori. Antonio, queste partite vi hanno fatto capire però che ve la potete giocare tranquillamente con tutto, come hai detto tu, con Casertano, con Lisernia. E vi darà una spinta ancora maggiore per l'anno prossimo a ripartire ancora più forte? Sì, 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 certamente. C'è una cosa, diciamo, la cosa più importante è che abbiamo, diciamo, gettato le basi per il prossimo anno. Abbiamo preso consapevolezza, come ho detto siamo una squadra giovane. E io penso che con un paio di innesti, veramente l'anno prossimo possiamo toglierci grandissime soddisfazioni. Abbiamo un mister che probabilmente non c'entra niente in questa categoria. Come ho detto adesso non vedo l'ora che arriva l'anno prossimo per giocarci quello che abbia buttato quest'anno. Cinofilia, domenica 20 giugno. Il contato del Molise ospiterà il raduno sul cane corso tradizionale, le razze d'allevamento meridionali. Il centro molisano di Santa Croce di Magliano del dottor Flavio Bruno si conferma punto di riferimento per i professionisti del settore e per gli amanti del mondo cinofilo. Per i tornei estivi è in programma il 26esimo torneo della Madonna del Carmine a Riccia. L'anno scorso si è dovuto passare per quel che riguarda questo torneo per le note vicende legate all'emergenza sanitaria. Ma quest'anno la famiglia Tronca ha deciso, visto che è possibile, stando alle nuove disposizioni, ebbene la famiglia Tronca ha deciso di ripristinare questa tradizione perché ormai è diventata una tradizione con il calcio estivo dei tornei della nostra regione. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 20 giugno, mentre il torneo avrà inizio il 1 luglio e si concluderà con la finale prevista il 16 luglio, giorno in cui a Riccia si festeggia la Madonna del Carmine. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio!